I carabinieri della compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna, hanno arrestato un giovane 29enne di Capaccio Scalo. Il blizzo è stato svolto dai carabinieri della locale stazione, che nella tarda serata di venerdì 6 eseguivano una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del pregiudicato, a seguito della quale venivano rivenuti 26,5 grammi di cocaina ben occultati, nonché un bilancino di precisione, una ingente somma di denaro, circa 2.000 euro, sicuro provente dell'attività di spaccio. È stato arrestato per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e condotto nuovamente presso il proprio domicilio, in regime di arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.